Cercasi talenti senza alcuna preclusione legata ad altezza, fisicità e capacità di salto. L'Italia è alla ricerca di giovani di talento, punto, perché la rifondazione dei settori nazionali giovanili passerà attraverso questo concetto e non più dando priorità piano altezza e fisicità. A spiegare alla campagna il nuovo percorso tecnico azzurro è stato il CT della Nazionale Pre-Uniors Maschile Vincenzo Fanizza nel giorno del consueto Regional Day Maschile. Sotto la lente di ingrandimento dell'esperto tecnico pugliese supportato da coach Giampiero Panzini, tecnico campano inserito nei processi selettivi nazionali e dei responsabili del settore tecnico regionale Gaetano Vitale e Luigi Russo, sono finiti i migliori prospetti under 16 prodotti dai vivai della Campania. Un'ora di intensissimo lavoro per gli emozionatissimi pallavolisti campani che hanno così accarezzato con le dita il sogno di vestire in un futuro non troppo lontano la maglia di una nazionale giovanile italiana per ripercorrere le gesta di chi come il simbolo dell'attuale nazionale maggiore. Filippo Lanza, partendo da questi momenti di selezione, ha poi spiccato il volo verso la gloria. L'Italia non cerca soltanto il talento, cerca il coinvolgimento, perché abbiamo, questo è uno sport che in alcuni momenti poteva sembrare discriminante per il piano altezza o altro. Ora stiamo cercando sempre più atleti che sappiano giocare bene a pallavolo, perché non è un caso vedere atleti di un certo livello che giocano in Superlega di 1,91-1,92, perciò possiamo pure cercarli noi, in tante regioni. Non dobbiamo per forza cercare gli atleti di due metri, ma possiamo cercare anche atleti che abbiano dei parametri un po' più bassi, però che sappiano giocare bene. Prima di congedarsi dalla Campania, Vincenzo Fanizza, particolarmente colpito in positivo delle iniziative promosse dalla FIPAV Campania in ambito giovanile, ha voluto trattenersi per qualche minuto con i tecnici campani che erano stati invitati al Regional Day per poter scrutare e studiare le nuove tecniche di allenamento adottate dallo staff tecnico della Nazionale. Per fare qualità si deve avere quantità, perché poi è tutto a piramide, se abbiamo tanta quantità riusciamo a fare qualità. Poi quante più idee ci sono per migliorare il livello tecnico, ben venga, più idee abbiamo, possiamo fare più club Italia, come hai detto tu, più club meglio è, chiaramente perché ci sono società dove hanno la possibilità che i propri atleti possano fare campionati di categoria, ci sono società anche per motivi economici non possono farlo, perciò il fatto che il Comitato Regionale Campania voglia fare il club Campania è un'ottima idea. Giovani talenti crescono, una nuova generazione maschile bussa alle porte della Nazionale. Anche la Campania sogna, un giorno non troppo lontano, di vedere sbocciare una stella cresciuta a pane e pallavolo dalle nostre parti. Serve talento, un pizzico di fortuna e tanto, ma proprio tanto lavoro di qualità in palestra. Questa è la ricetta del futuro, questa è la strada da percorrere. Per Sottorete Campania, Giulio De Luigi.